Che facciamo? Tuo padre si fida di me e devi fidarti anche tu fai quello che ti dico ti riporterò a casa Ok Leon Bene Filiamo via da qui Ok La scala Io? Ok Come facciamo? Siamo bloccati No 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 Col cavolo Tranquilla Ti prendo Ehi Fidati Grazie Grazie Nido Ho trovato Aquila Reale Ricevuto Lei sta bene? Confermo Bel lavoro Condor Uno Invio subito un elicottero Ti invio le coordinate del punto di estrazione Devi arrivare lì Proteggi Aquila Reale a ogni costo Ricevuto Presto Il tempo sta peggiorando Chiudo Attenta è pericoloso Non ti allontanare Ok 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 Autrisa Arrivano, sta vicino! Oddio, cosa è successo? Oddio, cosa è successo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 arriva avverti la prossima volta asli 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 Grazie. Arrivano, sta vicino. Oddio, cosa è successo a queste persone? Ho un regalo. Ma verdi, la prossima volta! Arriva! Arrivano, la prossima. Grazie. Arriva! 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 Arrivano, sta vicino! Oddio! Cosa è successo a queste persone? No! No! Si fessi! No! Arrivano! Arrivano! Sì, è stato un po' di più, è stato un po' di più. Arrivano, sta vicino Oddio, cosa è successo a queste persone? Oddio, sta vicino Oddio, sta vicino Ok Sto bene, grazie Grazie Buono Grazie Il tempo sta peggiorando Grazie 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 No! Leon! Il tempo sta peggiorando Scusa, sono scivolato Scusa, sono scivolato No! Leon! Il tempo sta peggiorando Scusa, sono scivolato 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 Grazie. 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 No, mejor! Scusa. via dalle palle mi prenderò di certo un raffreddore benvenuto che vuoi comprare questa roba vale il prezzo che costa te lo garantisco abbiamo una bella selezione di articoli in vendita straniero se speri di sopravvivere lì fuori devi potenziare la tua attrezzatura sprega tutte le faccende in sospeso prima di andare da questa parte non vorrai passare il resto della vita a pieno via tu Ehi, ascolta, riguardo a prima... Già, a proposito. Ehi, hai ritrovato la tua signorita perduta. La signorita ha un nome Dea, sì. E tu sei? Mi chiamo Luis. Incantato. Bene, abbiamo tutti un nome. Adesso, dimmi chi sei. E cosa ci fai qui? Sono ottime domande, peccato. Nasconditi. Dal caso, vieni. Aiutami. Ashley, presto. Vieni qui. Vai. Ok. Divertiamoci. Siamo in due contro un'intera orna. Non dimentichiamoci che loro sono un bravo. Ti mostri. Ti sei riscaldato? Hai disteso bene i muscoli? Sì. Ora fammi il piacere di stare zitto. Rilassati, cowboy. Niente male, vero? Tutto tu! Via dalle palle. Che cazzo stai facendo? Che cazzo stai facendo? Non ti distratti. Oh! fuori Alla prossima! 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 Film! Alla prossima! Alla prossima! Fino! No! Ampettate! Alla prossima! So estate! Alla prossima! Jesse! hell Okay! Alla prossima! Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, ora fammi il piacere di stare zitto Rilassati cowboy Sì, ora fammi il piacere di stare zitto Rilassati 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 Non male Il prossimo Rilassati 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 Prova a salire su questa Sono venuto a salvarti il culo Puoi ringraziarmi dopo Merda Rilassati 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 guarda è arrivato uno bello grosso sono un po occupato adesso e è così che tratti gli ospiti andrebbero accolti col sorriso anche con i proiettili va bene il prossimo grazie e 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 anche un'altra cosa che devo prendere qui nido ho delle brutte notizie condor uno con questo brutto tempo l'elicottero non può avvicinarsi aspettate lì finchè non migliora negativo troppo pericoloso andremo a cercare un posto più sicuro mi spiace vorrei fare di più per voi non preoccuparti torneremo a nuoto se necessario condor uno chiudo andiamo che che cosa mi succederà intanto pensiamo ad andare via da qui ok giusto benvenuto a delle rarie qualità da offrirti straniero i miei articoli sono tutti di fattura eccellente te la sicuro abbiamo una bella selezione di articoli in vendita straniero non dimenticarti di affilare il tuo coltello può fare la ditta provala e vedi come va torna presto ok 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 trovarci benvenuto che vuoi comprare vuoi vendermi qualche grazie ciò che vedi è tutto quello che ho conservavo questo articolo apposta per il miglior cliente posso fare altro per aiutarti come nuovo vedi di non rimanerci secco no abbiamo compagnia continua a camminare ma fai piano ok ok ci ci provo dove stai è qui è la è è è è è è Ehi, va essere io! Mi sa che ci tocca? Ehi, va essere io! 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 Ascoltami! Ehi, va essere io! Ehi, va essere io! Ehi, va bene! Ehi, va essere io! Ehi, va bene! Ehi, va bene! Ehi, va bene! Ehi, va bene! Ehi, va... Ehi, va bene! 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 Ehi, va bene!